Non so se è un problema solo mio ma la mia poca delicatezza in questi casi fa casino Io sto studiando, io sto studiando, la Saremi sta leggendo la pagina 15 da 20 giorni Scusatemi, a forma intera voi direte se divertiranno, andranno al mare Ma ti credo, vale il tempo Maschera e due pensionati Ma figurati se esce il sole a forma intera, qualche giorno dovevamo fare, solo qualche giorno, non chiedevo altro Qualche giorno, qualche giorno Ehi fratello esci fratello sole dai, siamo qui, stiamo aspettando solo te E chiudiamo con la nostra Giulia Salemi che fa il rating dei water Io sono troppo vecchia per questi giochi, mi dispiace, vi lascio così al prossimo, ciao 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 Ciao